Petizioni statali 33734, firme raccolte anche in Svizzera, in settimane i frontalieri Vigezzini incontrano Ulione e Montana. Importante micchiage per il centro d'incontro Sant'Anna di Pallanza, lavori a teatro e uffici, in futuro saranno riqualificati, bare, aere e esterna. Partirà dopo la metà del mese il cantiere di Via Galletti a Domodossolo, i lavori porteranno alla riqualificazione della zona. Ha compiuto 50 anni il servizio di dialisi del Santissima Trinità di Borgo Manero, oggi in cura 130 pazienti cronici. 10 febbraio, giorno del ricordo, due celebrazioni a Domodossolo e Verbania per ricordare la tragedia delle foibe. Terza sconfitta nell'ultimo mese per la Paffoni che cade ad Alba e lascia il primo posto in classifica a San Mignato. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, viabilità in apertura e sempre in primo piano la situazione in cui versano le statali 34 e 337. Lo sapete è in corso una raccolta firme da parte di un gruppo di frontalieri, ebbene dopo i banchetti nelle piazze del VCO la petizione è espatriata anche in Svizzera. Esce dai confini nazionali la petizione lanciata dai frontalieri Vigezzini per chiedere la messa in sicurezza della statale che porta a Locarno, petizione che successivamente ha allargato la sua richiesta di intervento anche verso un'altra importante arteria provinciale, la statale del Lago Maggiore. Entrambe, strade internazionali, spesso al centro delle cronache locali per lutti e chiusure. Dicevamo della petizione, dopo i banchetti nelle piazze del Verbano Cusiossola, oggi la raccolta firme si è spostata a Brissago, in territorio ticinese. La risposta dei residenti c'è stata, confermono i promotori. Del resto gli svizzeri si sono sempre mostrati sensibili verso i temi legati alla sicurezza delle statali italiane. Sul versante italiano, intanto, la raccolta firme è ferma nei banchetti, ma sta proseguendo negli uffici dei diversi municipi che hanno aderito all'iniziativa. Ad oggi la petizione ha incassato più di 3.000 adesioni. Intanto, in settimana, una delegazione di frontalieri Vigezzini sarà ricevuta dai vertici dell'Unione Montana di Santa Maria Maggiore. Si parlerà della statale 337, un incontro chiesto al presidente Giovanola prima dell'avvio della petizione, che servirà ai frontalieri per fare il punto relativamente ai futuri progetti di messa in sicurezza della statale che collega Masera a Camedo. Ed ora parliamo del progetto di riqualificazione del centro d'incontro Sant'Anna di Pallanza, un restyling importante che, a fine lavori, regalerà al quartiere nuovi spazi da destinare all'aggregazione delle persone. 20.20, un punto di svolta per il centro di conto Sant'Anna, che diventerà un qualcosa di unico, possiamo anche quasi chiamarlo un esperimento dal punto di vista sociale, una sfida che avete affrontato con grande entusiasmo, che state affrontando con grande entusiasmo e che nei prossimi mesi diventerà finalmente realtà. Sì, è corretto, una sfida che abbiamo colto insieme a Don Egidio quando ci ha chiesto di rigenerare la progettualità che ha caratterizzato questo spazio e in funzione proprio di quello che era il principio del centro d'incontro, noi come cooperative sociali, come imprese sociali, abituate a lavorare nell'ambito dell'intervento con la persona, riteniamo di poter mettere qui le nostre competenze in ambito di costruzione di progetti, di gestione anche aziendale dei nostri progetti e di convertirli in una chiave per noi nuova, assolutamente un fronte innovativo che è quello della cultura. Quindi la cooperazione sociale che tramite la cultura vuole diventare un soggetto attivo qui dentro a Sant'Anna, vuole contribuire al rilancio di un quartiere che si sta trasformando e vuole essere un punto di riferimento per progetti culturali, per progetti sociali, per la nascita di nuove imprese sociali. Ecco, il teatro rinnovato ma non solo. Esatto, questo spazio è composto di più aree, c'è l'area teatro, l'area uffici, l'area bare e l'area esterna. In questo momento noi siamo nelle capacità di fare un primo intervento di investimenti sull'area teatro e sull'area degli uffici. Progetto finanziato da? Il progetto ha diversi finanziatori, in primis è la Fondazione Cariplo che finanzia per circa poco meno della metà dell'investimento, abbiamo Fondazione Comunitaria che ci ha aiutato a reperire alcuni dei fondi e ci ha aiutato anche ad accedere a quelli di Fondazione Cariplo e Caritas che ha sostenuto con un intervento che ormai si è chiuso la prima parte dei lavori. Metà dell'investimento è invece con risorse nostre tramite liquidità delle cooperative e accesso ad un mutuo. Che ruolo avrete all'interno di questo progetto? La ricchezza di questo progetto è che ci saranno cooperative che possono lavorare con i soggetti più fragili e quindi nell'ambito del lavoro e dell'attivazione di percorsi lavorativi ed anche cooperative che erogano servizi. In particolare qua è già presente da qualche anno e per ora trasferito a causa dei lavori una sede del Centro per la Famiglia. ...alla viabilità domese perché tra pochi giorni parte il cantiere in via Galletti, un investimento di più di 800 mila euro. A fine intervento un altro tassello importante della viabilità cittadina cambierà volto. E' una mini rivoluzione viaria, quella che attende i domesi nell'immediato futuro. Parte fra pochi giorni il cantiere di via Galletti, nodo nevralgico della circolazione cittadina. Al momento una delle vie più disastrate del centro città. Per la verità non l'unica. I cubetti in porfido di via Galletti risultano sconnessi in più punti, a tratti sostituite da macchie di asfalto. Nei giorni scorsi in municipio si è tenuto un vertice operativo al quale ha presenziato anche il sindaco Pizzi. Parola d'ordine, ridurre al minimo i disagi per automobilisti e commercianti. A Palazzo di Città, oltre ai tecnici comunali, rappresenta l'impresa che dovrà realizzare i lavori di riqualificazione della via e le ditte che si occuperanno del rifacimento dei sottoservizi. I primi a partire saranno proprio loro. Si comincia con la rete gas e poi il resto, data ipotizzata per l'avvio del cantiere il 18 febbraio. I lavori di riqualificazione ricalcano quanto già fatto nei mesi passati, in corso Paolo Ferraris e in via Garibaldi. Il lato destro della via sarà allargata. Ci sarà un collegamento diretto con via Rosmini e saranno posate alcune piante. Come è successo lungo il corso cittadino, anche in via Galletti andranno a scomparire alcuni parcheggi. Il tratto interessato è quello che va dall'incrocio con piazza Tibaldi sino a via Cavallotti. La restante parte manterrà l'attuale numero di posteggi. Spesa complessiva dell'intervento circa 850 mila euro. Nel corso dei lavori la circolazione stradale non sarà mai interrotta completamente. Nel quarto trimestre 2019 l'economia piemontese è cresciuta dello 0,2% a fronte del calo dello 0,3% fatto registrare a livello nazionale. Il calcolo è stato reso possibile grazie alla messa a punto di un nuovo superindice in grado di misurare l'economia regionale in assenza dei dati Istat sul PIL che per le regioni esistono solo su base annuale e vengono diffusi con un anno di ritardo. Il nuovo indice, battezzato PIL Now, è frutto dell'iniziativa del Comitato Torino Finanza, della Camera di Commercio di Torino e di Union Camere Piemonte. Presentato oggi a Torino è il primo del genere in Italia. Le stime del PIL Piemontese attraverso il nuovo modello hanno spiegato, evidenziano come l'economia regionale si sia dimostrata meno resiliente della media nazionale durante le crisi del 2008 e del 2012. Nel 2017-18 invece è cresciuta più della media, ma la stagnazione del 2019 ha riallineato la dinamica piemontese con quella italiana. E rimaniamo ancora a parlare di economia con un occhio puntato verso i nostri vicini svizzeri. C'è stato un lieve aumento della disoccupazione il mese scorso in Svizzera. In gennaio la quota di senza lavoro è infatti salita di un decimo di punto rispetto a dicembre, fissandosi al 2,6%. Secondo i dati forniti questa mattina dalla Segreteria di Stato dell'Economia, in Ticino e in gennaio il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,5% e in crescita di 0,2 punti percentuali rispetto a dicembre. Tendenza inversa nei grigioni dove la percentuale di senza lavoro è scesa di due decimi di punto all'1,3%. Ha tagliato il regguardevole traguardo del mezzo secolo di vita. Parliamo del servizio di dialisi dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Nei giorni scorsi c'è stato un momento commemorativo, un'assemblea pubblica è in programma invece il prossimo 15 febbraio. Perché la volontà di fare in questo piccolo ospedale una dialisi? Io in quegli anni ero interno alla clinicamentica di Pavia ed ero capitato a Borgomanero per fare la tesi e c'è stata questa opportunità. Il signor Zaccheradino che faceva la diasi lontano da Borgomanero aveva offerto un reno artificiale. Io allora ero andato dal mio primario di allora che era il dottor Triolo e gli ho detto professore io torno a Pavia perché sono interno lì. A meno che non ci sia la possibilità di fare qualcosa di innovativo qui a Borgomanero. C'è questa opportunità, se la accogliamo io mi fermo. Ma qui è difficile, non c'è neanche Novara, era in effetti una tecnologia di cui non sapevamo nulla. Era una tecnologia pericolosa ma che però salvava la vita delle persone e quindi le cose sono andate così e mi sono fermato. Questa avventura l'ha potuta vivere prima come medico e poi anche, purtroppo, dall'altra parte della barricata. Dall'altra parte della barricata io sono stato trapiantato nel 2004, ho vissuto bene, ho avuto altri inconvenienti che non c'erano a niente con il reno trapiantato e l'ho superato. Ho cominciato di nuovo a viaggiare come viaggiavo prima, a girare il mondo senza nessun problema particolare. Sono passati 50 anni, questa avventura prosegue ancora oggi perché oggi la diarisi è una realtà straordinaria, non solamente per il territorio, per le nostre province, ma addirittura ormai è un'eccellenza in tutto il Piemonte, dottor Cusinato. Sì, Piemonte in Italia, la dialisi ha raggiunto dei risultati eccezionali con un'altissima tecnologia. Il cinquantesimo ci fa ricordare, ripercorrere tutto questo percorso dai tempi pionieristici a quanto uomini, la dedizione e l'impegno di tanti uomini ci hanno permesso naturalmente di ottenere questi grandi risultati. Soprattutto in termini di sicurezza, in termini di qualità di vita dei pazienti. Se dovessimo dare qualche numero di questi ultimi tempi, di come è oggi la dialisi a Borgomanero? Borgomanero è una dialisi in cui vediamo 130 pazienti cronici, quindi circa 17-18 mila dialisi all'anno e abbiamo un'importantissima attività nei pazienti acuti applicando proprio le ultime tecnologie. 10 febbraio, celebrata anche nel VCO la giornata del ricordo. Iniziamo dalla cerimonia di Domodossola, una cerimonia doppia. Due momenti, uno in piazza vittime delle foibe estriani e uno a teatro Galletti per celebrare il giorno del ricordo a Domodossola. Una cerimonia molto partecipata, c'erano autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche ed arma, i ragazzi delle scuole. In piazza l'alza bandiera, l'inno d'Italia, la deposizione di una corona dall'oro e l'omaggio alle vittime sulle note del silenzio. Quindi il saluto del sindaco che ha sottolineato l'importanza della presenza dei giovani e di sollecitare la memoria, da qui il racconto di un sopravvissuto. Poi il saluto del presidente del VCO Arturo Lincio e l'intervento dell'oratore ufficiale della giornata, il professor Carlo Teruzzi, direttore del liceo delle scienze umane Antonio Rosmini. Allo stesso è stata affidata all'Alexio Magistralis il coraggio dei fatti, testimoni di un passato presente al Galletti, rivolta in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Teruzzi ha parlato dell'importanza della tradizione orale per raccontare la civiltà, una storia fatta di dolori e atrocità, ma anche ricca di valori. Prendendo a prestito le parole di Bernardo de Chartres, ha ricordato che siamo nani sulle spalle dei giganti e questo ci consente di vedere molto più in là, di vedere più cose e di avere una prospettiva migliore. Questo gigante, ha spiegato ad una platea di attenti giovani che prendevano appunti, è la storia dalla cultura greca ad oggi. Tutte le civiltà si basano sul racconto e danno anche un luogo, a volte una patria, a volte un luogo che resta solo nel cuore. Il professor Teruzzi ha poi ripercorso le vicende delle vittime delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, partendo dalla storia di Norma Cosetto, studentessa italiana, istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nel 1943 nei pressi della foiba di Villa Surani. In conclusione Teruzzi ha ancora sottolineato l'importanza di tenere vivo il ricordo. Vale la pena raccontare perché quel male che c'è in noi non prevalga su quel desiderio di bellezza e di buontà che il mistero che ci ha donato la vita ogni giorno rinnova dentro le nostre vittime. Giorno del ricordo a Verbagna sul lungo lago di Intra. Oggi la manifestazione promossa da Comune e Comitato 10 febbraio su richiesta del Comitato, condivisa dall'amministrazione e anche il tricolore proiettato sui sassi del Teatro Maggiore. Giorno del ricordo a Verbagna sul lungo lago di Intra. Oggi la manifestazione promossa da Comune e Comitato 10 febbraio. Dal vecchio imbarcadero la partenza del corteo, giunto sino al parco Cavallotti per la deposizione di una rosa bianca presso la targa in memoria delle vittime delle foibe. Nella stessa E-WOLA l'ulivo a ricordo recentemente sostituito. Fabio Volpe ha sottolineato che il Comitato 10 febbraio è attivo a livello locale dal 2015 per lavorare con le istituzioni e non dimenticare questa pagina di storia. Ha parlato di morti solo per la colpa di essere italiani. Con lui il vicepresidente della provincia Rino Porini, l'assessore verbanese Giorgio Comoli, il questore Salvatore Campagnolo e tutte le forze dell'ordine, ancora la professoressa Maria Canale, cittadini ed esuli. Ieri invece al centro eventi il maggiore di Verbagna la conferenza sulle foibe sull'esodo Giuliano Dalmata con la presenza di Roberto Menia, ex deputato di Alleanza Nazionale e primo firmatario della legge 92 del 2004 che ha istituito la giornata del ricordo 16 anni fa. Sostanzialmente hanno pagato per tutti, gli istriani, i fiumani, i dalmati. Io mi ricordo di essere figlio di questa storia e di raccontarla in giro. A Trieste, come in Istria, come in Dalmazia, come a Fiume, si morì per l'italianità, i tanti morti senza croce, quelli finiti nel foibe, poi il grande esodo, 350.000 persone che segnò di fatto un grande plebiscito di italianità e di libertà. Ecco, questi sono fatti che l'Italia ufficiale sconosceva, che non si studiava nelle scuole, che non erano comprese nella coscienza collettiva degli italiani. Ora questa memoria ritorna. L'Associazione Culturale, Cultura e Tradizione ha voluto fortemente l'evento di ieri, spiega, per offrire alla provincia del VCO una visione di alto respiro, volta a far capire bene cos'è la giornata del ricordo. La serata si è conclusa con una fiaccolata e con la posa di una corona di fiori alla lapide Norma Cosetto e Martiri delle Foibe. E in occasione di questa giornata, tricolore proiettato sui sassi del Teatro Maggiore. I soliti ignoti, con Vinicio Marchioni nel duplice ruolo di regista e interprete, Massimo De Santis, mercoledì 12 febbraio alle 21, al Teatro Il Maggiore di Verbagna. Ancora pochi posti disponibili. La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 58 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Le gesta maldestre degli esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle scene rituffandoci nell'Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. L'adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell'epoca lontana. Incontro conoscitivo per le protagoniste dell'edizione 2020 del Ballo delle Debuttanti di Stresa, edizione del decennale. Sono 11 le protagoniste dell'edizione del decennale del Ballo delle Debuttanti di Stresa di Ape VCO in programma domenica 8 marzo. Due le giovani di Verbania, Irene Guerra e Camilla Lelio. Le altre ragazze arrivano da diverse parti d'Italia. Due quest'anno anche le testimonial di Lilt VCO e Fondazione per la ricerca sulla fibrosicistica delegazione di Varese. Nei giorni scorsi l'incontro conoscitivo che ha riunito Deb, ex Deb e collaboratori del Ballo a Villa Giulia a Verbania. La presenza è stata veramente numerosa. Il salone di Villa Giulia era gremito, gremito non solo dalle nuove debuttanti, ma dalle ex-debuttanti, dai bambini che verranno Stresa il giorno prima del Ballo. ed è stato veramente un momento di aggregazione e direi di grande soddisfazione. Lavoriamo per il territorio, siamo felici di fare conoscere queste meraviglie a tutte le persone che arrivano anche da molto, molto lontano. Quindi promozione e valorizzazione del territorio unita alla formazione culturale. e convergerà a Stresa una delegazione di 100 persone che provengono dalla Sicilia, grazie a un nostro referente, Salvatore Di Betta. Una novità è che quest'anno torneranno i cadetti della Scuola Militare Tiole di Milano. Quindi più felici non potremo essere e speriamo di festeggiare questo decimo anniversario nel migliore dei modi. Pagina sportiva, la palla canestro, momento delicato per la Paffoni, sconfitta ad Alba e non più, prima in classifica. Tre indizi fanno una prova e dunque Houston abbiamo un problema, per dirla in stile Apollo 13. Una Paffoni troppo brutta, per essere vera, incappa nella terza sconfitta nell'ultimo mese, scivolando così dal primo al terzo posto in classifica. Una partita davvero negativa, quella di ieri al pala 958 di Alba. Una prestazione sotto tono di tutti gli interpreti che deve necessariamente portare ad un'analisi attenta ma severa. Serve equilibrio prima di tutto, ma urge una sterzata, un'inversione di rotta e di tendenza per non vanificare gli obiettivi stagionali. Nel dopogara ha parlato coach Salvemini che non ha accampato scuse, anzi le scuse le ha fatte a nome della squadra, ai tanti tifosi che c'erano ad Alba. Ci dispiace per loro, ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto, meritavano una partita diversa. Allora dico di stare ancora più vicino ai ragazzi, perché questo è un gruppo che ha una grande cultura del lavoro, le prime parole del coach abruzzese, che poi analizza il match. È un periodo in cui in attacco, molto semplicemente, non facciamo canestro e non riusciamo a produrre tiri con i tempi giusti. Non dobbiamo smontare tutto quello che abbiamo costruito in questi mesi, dobbiamo far prevalere la serenità e non l'ansia. Ci ritroveremo in palestra con ancora più voglia di darci dentro. Con l'umiltà, la dedizione, l'attenzione, possiamo tornare ad essere quelli che eravamo un mese fa. I momenti difficili ci sono sempre nelle stagioni ed è in questi momenti che lavorando insieme si costruiscono le vittorie. Ora dobbiamo pensare solamente a noi, conclude il coach della Paffoni. Ed ora siamo al calcio. Cominciamo dal servizio relativo alla vittoria del Bule Bellinzago contro il Briga. Missione compiuta per il Bule Bellinzago che batte il Briga e lo sorpassa in classifica piombando in piena zona play-off. 3-0 per i Tigrotti che confermano di essere in un ottimo momento di forma. Nella prima parte di partita non succede molto con le due squadre che si studiano. Poi al sedicesimo cross interessante di Lazzarini per i padroni di casa ma nessuno degli attaccanti giallobru riesce a trovare il guizzo vincente. Appena dopo il Briga in decisione di Gattone ma gli ospiti non riescono a concretizzare una favorevolissima chance. Il gol è nell'aria e arriva sei minuti dopo. Lo stesso Maio è bravissimo ad anticipare il diretto avversario e a concretizzare l'assist del solito. Lazzarini al trentottesimo arriva un'altra chance e il 2-0 dei padroni di casa con l'errore difensivo da parte della Briga per Maio è un gioco da ragazzi o quasi mettere alle spalle di Savoini e centrare il gol del 2-0 nel corso del secondo tempo ancora il volevo l'insago vicino alla trissa alla quarta d'ora quando Maio chiama in causa Savoini attento a respingere la minaccia il gol del 3-0 arriva al 29esimo del secondo tempo la firma è di Monzani che con una serpentina supera di fatto tutta o quasi la difesa della Briga e poi fa secco Savoini firmando il definitivo 3-0 Ed ora ospiti e contenuti di Dilettanti per Diri non da come sempre stasera alle 20.35 ancora martedì alle 13 e alle 17 Appuntamento come tutti i giorni di sera con Dilettanti per Diri una puntata molto ricca dalla Lega Pro fino alla promozione con tante immagini tante interviste nella prima parte sono con noi collega e amico Marco Foti ciao Marco ciao Daniele e Alessandro Riva ciao Ale ciao Daniele dunque momento complicatissimo per il Verbagna e per il Gozzano un sorriso in casa Novara dopo un mese senza vittorie Marco e poi Alessandro sorriso del Novara ci voleva curioso che arrivi dopo una prestazione che forse non è neanche completamente ai livelli almeno nel primo tempo di quelle delle precedenti quattro partite il calcio è questo forse si è preso un po' di quella fiducia che mancava speriamo che prosegua col Gozzano invece vedo che la fiducia va mancando ieri è stata una botta terribile deve rialzarsi lo deve fare in fretta perché è una partita da dentro o fuori quella con la Pianese ecco domenica Gozzano Pianese e Verbagna Vado due sparti acqua e due corcivia per la stagione di entrambi Alessandro sì io ho visto penso che i campionati finiscono alla fine per cui non la vedo così devono pensare che è una partita devono cercare di vincere chiaramente essendo in brutte posizioni è complicato però la vedo che deve essere un tassello per arrivare alla salvezza ci devono chiedere e ce la possono fare nella seconda parte con noi avremo Marco Mellano mister della Fulgro Vallego che ieri ha battuto nel derby la Bielese 2 a 0 e Beniamino Tomola presidente del Piedimolera ed è tutto per questa edizione del nostro giornale per tutti gli aggiornamenti www.vcoazzuratv.it e poi ci sono i nostri canali social grazie per essere stati in nostra compagnia buon proseguimento con i nostri programmi www.vcoazzuratv.it grazie a tutti grazie a tutti